Siamo pronti per questo volino? Sì, un po' la mia guida verso l'arrivo, quasi. Andiamo a posto. Bene, sono qui. Siamo i vettini. Guerriero, vieni qui! Tutto a piedi, ragazzi. Ah, no, volendo potrebbe andare qua, ma non prenderlo. No, no, non c'è abbastanza, non c'è. Let's grab a right. no one walks in Yara here you go here you go A presto! Torno, torno! No, vengo lì! No, non volevo accusarlo, ma quando c'è un morto... Ecco, fa così proprio con la incollo, sei morto! Dove cazzo mi rispondo? Dove cazzo ora mi ha salvato? Vediamo dove ho salvato!